Cerchi un ristorante o un locale per andare a cena? Devi festeggiare un evento particolare? Chiamo il call center di Radio Radio By Night Roma 800-039-036 per avere un trattamento privilegiato 800-039-036 This is the voice of your night Radio Radio By Night Roma 104.5 FM Let's begin Let's begin Siamo ormai arrivati quasi alla fine Devo dire mancano gli ultimi due talenti Per questa sera dopo che avremo il giudizio Siamo sul filo di lana direi Sì, ci siamo, abbiamo recuperato Ci siamo, ci siamo Sono le 2.32 E quindi diciamo che il tempo fugge La prossima artista a salire sul palco ce l'abbiamo già dietro Beh, qua sono saliti grandi talenti Adesso che? Lei è Laura Abate Che ci presenterà il brano Ovunque proteggi di Vinicio Caposella, giusto? Sì Oh, dunque anche qui ho perso cover Ci siamo, no Sì, come no È cover Sì Non ti senti Ma non mi senti? È una cover È una cover È una cover È una cover Ce l'abbiamo A meno che Vinicio Caposella non è il suo autore privato Ma no L'avevo per un attimo, pensa, l'ho pensato Dunque, siamo pronti e la presentiamo come talento di By Night Roma Qui dal palco del Piper Club Lei è Laura Abate La canzone è ovunque proteggi di Vinicio Caposella 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 No, però adesso sentiamo Radio Radio By Night Roma Radio By Night Roma Presenta il nuovo talento della notte romana Non dormo gli occhi aperti per te Guardo fuori e guardo intorno Come gonfia la strada di polvere e vento nel viale del ritorno Quando arrivi, quando verrai per me Guarda all'angolo del cielo Dove è scritto il tuo nome? E' scritto nel ferro del cerchio di un anello E ancora mi innamora E mi fa sospirare così Adesso è per quando tornerà l'incanto E se mi trovi stancato E se mi trovi spento Se il meglio è già venuto E non ho saputo Tenerlo dentro me I vecchi già non sanno il perché E anche gli alberghi tristi Che il troppo è per poco E non basta ancora Ed è una volta sola Ma ancora procreggi La grazia del mio cuore Adesso è per quando tornerà L'incanto L'incanto di te Di te vicino a me E le 2.36 Altro talento in diretta Sì, lei è la numero 19 Laura Abate Radio, radio By Night Roma 104.5 T景o su sp aquela La grazia del mio cuore èируcce Che cantidad di di te